quando avveniva nel passato un atteggiamento verso la città di vicinanza, verso l'amministrazione però Gela purtroppo ha una mentalità che deve dare spazio ai pensatori, a quelli che fanno le proposte e ora di finirla che la politica ci rompa le scatole, cioè la politica si deve fare da parte, non facciamo con la cultura le campagne elettorali, con le strumentalizzazioni io posso dire che fino a questa mattina Vittorio Sgarbi mi ha proposto una personale in Mongolia vuole fare uno scambio con un artista della Mongolia e me portarmi là, quindi c'è anche una internazionalizzazione, allora io dico, io sono una risorsa per la città, possiamo fare noi un interscambio con altre realtà, ma non basta, bisogna creare i contenitori dell'arte sono i musei da fare fruire anche dal pubblico che viene qua da tutta la Sicilia per non dire tutta l'Italia, bisogna fare i presidi dell'arte e quindi scatta poi una molla di tutto quello che sta intorno, perché se si pensa solo a fare l'evento come evento di consumo, cioè non serve a nulla, allora tu devi fare il presidio, esempio io ho un'idea straordinaria su Gela, io faccio una parentesi poi magari se vogliamo parlare dall'occasione della mia mostra si deve parlare anche di più, a Gela si può fare un alter ego di quello che è il museo archeologico, cioè un contenitore del Novecento.